Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive, nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Viagono in 56, Milano. Il programma è offerto da... Problemi di calvizie? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Sport News. Un saluto da Ivan Filannino. E un saluto anche da parte di Simone Etonia. Buonasera a tutti quanti voi. Ecco, giornata di rimpianti Simone in Casa Roma. Ieri non è riuscita l'impresa, dopo il 2-0 subito in casa all'Olimpico. Stesso risultato al Santiago Bernabéu. Decidono i gol nel secondo tempo di Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. 2-0 per il Real Madrid e Zidane, che così si qualifica agli quarti di finale di Champions League. Una coppa che la Roma saluta, con tanti rimpianti, diciamo, perché le occasioni ci sono state. Sullo 0-0 per riaprire il discorso qualificazione. In modo particolare Salah e Dzeko hanno avuto le occasioni più ghiotte. Non sono riusciti a sfruttarle. Così giornata di amarezza. Vediamo il servizio. Niente impresa per la Roma in Champions League. Dopo il 2-0 subito all'andata all'Olimpico, gli uomini di Spalletti escono dal Santiago Bernabéu sconfitti con lo stesso risultato. Gara decisa in quattro minuti con i gol di Cristiano Ronaldo e Rodriguez al 64esimo e al 68esimo. Ma sono tanti rimpianti per i giallorossi, che dopo essere stati penalizzati dalle decisioni arbitraie all'andata, a Madrid hanno avuto ben cinque occasioni nitide per sbloccare il risultato sullo 0-0 e riaprire il discorso qualificazione. La più ghiotta capita sui piedi di Dzeko, che solo davanti al portiere calcia fuori. Si poteva fare di più, è stato il commento a fine partita di Luciano Spalletti, che ha anche aggiunto come la squadra debba crescere di mentalità e non abbattersi alla prima difficoltà. Emozione personale invece per Francesco Totti, che il Santiago Bernabéu ha omaggiato con un'ovazione al momento del suo ingresso in campo al 74esimo. Il Real Madrid accede così ai quarti di finale, insieme al Wolfsburg, che dopo il 3-2 all'andata vince anche in casa per 1-0 contro i Belgi del Ghent. La Roma quindi deve salutare la competizione europea più importante a livello per club. Ci sono, come detto, tanti rimpianti per i giallorossi, con Spalletti che però ha tuonato in conferenza stampa, che i propri calciatori e anche i tifosi non possono essere contenti di quanto fatto. Questo perché, secondo l'attuale allenatore dei capitolini, la Roma avrebbe potuto giocarsi molto di più il passaggio del turno. Quindi non si può essere contenti di aver perso e la partita di andata e quella di ritorno per 2-0. Chi poi è stato schierato, ormai però ha risultato deciso, è il capitano della Roma, Francesco Totti, entrato a circa un quarto d'ora dal termine del match. Ebbene, Totti ha spiegato, come non sappia ancora, quale sarà il suo futuro e poi svelato come in passato il Real Madrid lo abbia cercato. Questa è una notizia, chiaramente, che era già nota e in Italia e in Spagna, ma proprio il numero 10 dei giallorossi ha aggiunto poi come le merengues siano il suo più grande rimpianto. Francesco Totti, si sa, è l'emblema della Roma. Il capitano dei giallorossi, romano e romanista, nella sua carriera ha scelto una strada ben precisa, quella di vestire sempre la casacca della sua squadra. Il cuore per questo è idolatrato dai suoi tifosi, rispettato dagli avversari, ed è forse anche questa la spiegazione del perché uno dei numeri 10 più forti della storia non abbia poi così vinto. Tanto lo voleva il Real Madrid, in modo tale che il gladiatore romano diventasse un galattico, ma lui preferì restare nella capitale e diranno grazie. Così, proprio ieri, nella sfida contro le merengues, dopo essere subentrato a circa un quarto d'ora dalla fine della gara, l'esigentissimo pubblico del Real Madrid ha voluto omaggiare quel Totti che, come detto, avrebbe potuto giocare per la Casablanca. Un'ovazione che quindi ha certificato ulteriormente la grandezza del calciatore che, dal canto suo, ha apprezzato e molto quanto successo. È stata un'emozione perché sono ricordi bellissimi e questo vuol dire che al calcio, dato tanto, sono applausi di ringraziamento da parte di uno stadio strepitoso, l'unico rimpianto che ho avuto. Il mio futuro? Beh, vediamo quello che succede. Le parole del capitano della Roma. Quindi abbiamo detto Real Madrid ai quarti di finale di Champions League, c'è il pass ai quarti anche il Wolfsburg, che ieri ha battuto 1-0 i Belgi del Ghent, confermando così il 3-2 ottenuto all'andata. La Champions League prosegue stasera a parata di stelle allo Stamford Bridge, dove si affrontano Chelsea e Paris Saint-Germain. Si riparte dal 2-1 per i francesi, ottenuto grazie ai gol di Ibrahimovic e Cavani al Parco dei Principi. Un Ibrahimovic che però ha fatto infuriare i tifosi parigini, scopriamo perché. Seconda giornata delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo Real Madrid e Wolfsburg stasera altre due squadre entreranno tra le 8 migliori d'Europa. Occhi puntati sullo Stamford Bridge di Londra, dove va in scena la sfida di lusso tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Gli uomini di Hidding cercheranno di ribaltare il 2-1 subito all'andata e di vendicare l'eliminazione subita alla passata stagione, quando sulla panchina sedeva José Mourinho. Al Chelsea basterebbe l'1-0, ma l'attacco stellare di Blanc con Di Maria, Ibra e Luca più Cavani pronti all'occorrenza vorrà dire sicuramente la sua. Clima un po' agitato proprio da Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto infuriare i suoi tifosi dopo aver dichiarato che il PSG è nato quando sono arrivati i catarioti. E chi questa sera non potrà scendere in campo nella partitissima di Champions League fra Chelsea e Paris Saint-Germain è l'italiano Verratti, questo perché il centrocampista ex Pescara si è infortunato. Scopriamo quindi quali sono i tempi di recupero nel prossimo servizio. Le condizioni fisiche di Marco Verratti preoccupano e non poco. Le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint-Germain, Lorraine Blanca, hanno di fatto aperto un caso sul suo stato fisico. L'infortunio di Marco ha spiegato il tecnico alla vigilia del prossimo match in campionato contro il Montpellier è di natura ossea e quindi più difficile da risolvere. I segnali sono comunque positivi, abbiamo potuto lavorare con lui sulla preparazione cardio anche se purtroppo per il momento non può fare movimenti laterali ma solo avanti e indietro. Una situazione è quella del centrocampista del Paris Saint-Germain di cui era già a conoscenza anche il tecnico della nazionale Antonio Conte che però ora preoccupa anche il professor Castellacci. Nello specifico l'infortunio è un'infiammazione ossea a livello pubblico che rende ancora più difficile la già non facile stagione dell'ex Pescara che quest'anno aveva già rimediato un infortunio alla caviglia nel match contro il Real Madrid. Un Blanc che fino all'ultimo deciderà se schierare Verratti o no infatti potrebbe comunque decidere di rischiare il centrocampista italiano che comunque abbiamo detto è in recupero. Buona notizia quindi per Antonio Conte che ha avuto paura di perderlo per gli europei Verratti quasi sicuramente ci sarà. Sarà disponibile Conte che però potrebbe appunto salutare la nazionale dopo gli europei per trasferirsi in Inghilterra in Premier League ad allenare il Chelsea e quindi si scatena ovviamente il Toto CT. Vediamo chi sono i favoriti. Prosegue la rincorsa per la panchina della nazionale. Dopo la quasi ufficializzazione di Antonio Conte al Chelsea il presidente della FGC Tavecchio sta stilando la lista dei possibili successori. In pole position ci sarebbe Roberto Donadoni, attuale tecnico del Bologna. La pista che porta il tecnico rosso-blu è molto ardua. Infatti il patron della squadra emiliana, Joey Saputo, è stato letteralmente colpito e affascinato dal lavoro e dalla professionalità di Donadoni. Tanto da volergli prolungare il contratto oltre il 30 giugno 2018. Tavecchio, ad ogni modo, se ne riuscisse a portare in azzurro il tecnico del Bologna, avrebbe già pronta una seconda scelta, Ragneri. L'allenatore romano sta stupendo tutti in Inghilterra e non solo. Infatti il suo Leicester sta dominando la Premier League con 5 punti di vantaggio sulle seguitrici ed è lanciatissimo per scrivere la storia del club. Sembra invece allontanarsi la possibilità di vedere Roberto Bancini sulla panchina della Nazionale. E allora nella rosa dei possibili candidati alla successione di Antonio Conte sulla panchina azzurra c'è anche Roberto Donadoni che tra l'altro ha già ricoperto tale incarico. Poi all'europeo venne eliminata l'Italia proprio di Donadoni ai rigori contro la Spagna che vinse quell'europeo, fu la prima Eurocopa della storia delle furie rosse. Ebbene però Donadoni dovrebbe essere blindato dal Bologna. Possiamo vedere i dettagli direttamente dal sito del Corriere dello Sport. Calcio Mercato Bologna ha saputo blindere a Donadoni. Il numero uno prepara un vertice con il tecnico per programmare il futuro e spegnere così le voci di un suo ritorno in Nazionale. Poi chiaramente si dovrà vedere la situazione perché il nome di Donadoni, nonostante Corvino non abbia mai nascosto di voler tenere l'allenatore bergamasco e abbia specificato come Donadoni resterà al Bologna al 101%, viene comunque, come detto, accostato sempre con maggiore insistenza alla panchina azzurra. Adesso noi cambiamo totalmente argomento perché dobbiamo fare degli auguri particolari all'Inter. Giusto Ivan? Esatto, facciamo gli auguri all'Inter che oggi compie 108 anni. Vediamo il servizio. Buon compleanno Inter, la storica società milanese che nel proprio palmarès può vantare la conquista di 18 scudetti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, 3 Champions League e 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club. Oltre ad essere l'unica squadra italiana a non essere mai retrocessa in Serie B, compie oggi 108 anni. Fondata nel 1908 da 44 soci dissidenti del Milan, l'Inter è chiaramente un vanto per tutto il calcio italiano poiché insieme agli altri top club del bel paese ha rappresentato alla grande nella sua storia anche in Europa il calcio italiano. Oggi di certo la squadra non è comparabile alla grande Inter di Elenio Herrera o alla corazzata che nel 2010 conquistò il triplete con José Mourinho. Il nome Roberto Ancini lavora per far tornare dove meritano i neroazzurri. Che dire di più se non tanti auguri Inter. E concludiamo il capitolo relativo all'Inter parlando di Ivar Remio Cordoba, uno dei calciatori comunque che hanno fatto le fortune dei neroazzurri negli ultimi anni. Questo perché lo stesso calciatore colombiano ha attaccato e non poco Walter Mazzari. lo possiamo vedere direttamente dal sito fcinter1908.it. Cordoba, Mazzari, senza anima, l'Inter era troppo. Mu, Toir e i clan, Ivan Cordoba poi che è stato intervistato da Corriere TV ha parlato di tutta la sua esperienza all'Inter e del rapporto con i compagni fino all'addio doloroso ai colori neroazzurri. Specifica come l'Inter sia tornata pazza, quella che conosciamo e quella per l'appunto che riconosciamo ma poi c'è la stoccata che fa discutere a Walter Mazzari perché non c'è stata un'anima in quella gestione non si sono incontrati l'Inter e l'allenatore. Aveva le sue idee, ha dimostrato di essere un buon mister con Napoli e Regina ma la dimensione dell'Inter era davvero troppa per lui. Quindi chiaramente parole non tenere per l'allenatore di San Vincenzo. Adesso noi passiamo dall'Inter al Milan perché come i neroazzurri hanno i loro problemi riguardanti il fair play finanziario lo stesso discorso può essere esteso anche al Milan è per questo che Barbara Berlusconi infatti è volata a Nyon ma prima di affrontare tale argomento parliamo del futuro dell'allenatore di Sinisa Mijailovic questo perché il mister serbo ha voluto smentire con molta forza le voci di un suo possibile addio al diavolo al termine di questa stagione. Sinisa Mijailovic smentisce con forza la notizia secondo la quale al termine di questa stagione lascerà il suo incarico al Milan. L'attuale mister dei rossoneri direttamente dal canale tematico della società in esclusiva non solo spiega infatti come non abbia alcuna intenzione di lasciare il diavolo ma anzi sottolinea come voglia restare ancora a lungo il rossonero. Voglio andare avanti con il Milan anche perché dove si sta meglio se non in questa società non finirò mai di ringraziare il presidente Berlusconi e la di Adriano Gagliani. ho la coscienza pulita e vado avanti a testa alta mi spiace però che sia bastata una sconfitta per far tornare fuori queste voci ma io ho sempre avuto due cose in questo mondo le palle e la parola e le ho sempre mantenute entrambe la smentita categorica e con forza dello stesso Mijailovic. E appunto come diceva Simone, Barbara Berlusconi è volata a Nihon per un summit con Umberto Gandini il Milan rivede l'Europa League attualmente al sesto posto deve ovviamente curarsi della possibile rimonta del Sassuolo distante solo tre punti ma in caso di qualificazione alla Coppa Europea bisognerà a fare i conti col fair play finanziario. Vediamo i dettagli. Il Milan di Silvio Berlusconi salvo scivoloni di classifica difficilmente ipotizzabili e ad oggi la prossima stagione rientrerà in Europa la Champions League è quasi un miraggio visto l'importante distacco dalle principali concorrenti ma i rossoneri hanno comunque la doppia chance per entrare in Europa League la finale di Coppa Italia se vinta assicurerà la partecipazione oppure in caso di mancato trionfo l'unica strada sarà il sesto posto in campionato ritorno in Europa che però allo stesso tempo significa anche ritornare sotto la lente della UEFA e del fair play finanziario i conti del club non sorridono affatto e così come fatto dai cugini dell'Inter nella passata stagione anche il Milan sta iniziando ad intavolare un discorso con l'organismo calcistico per alleggerire le eventuali sanzioni nella giornata di lunedì infatti Barbara Berlusconi si è recata a Nioni insieme al direttore organizzativo Umberto Gandini l'obiettivo del summit era quello di spiegare come si articolerebbe il piano di sostenibilità finanziaria messo a punto dalla dirigenza di Vialdo Rossi un piano triennale chiesto dai rossoneri tramite il voluntary agreement cioè una richiesta preventiva attraverso la quale i club concordano il piano di rientro con la UEFA in caso però non dovessero venire rispettati i termini il Milan finirà sotto processo senza possibilità di patteggiamento continuiamo a parlare di Milan ma lo facciamo in chiave diversa questo perché un ex calciatore della formazione minighina ha fatto infuriare i tifosi del diavolo stiamo parlando di Alessio Cerci che su Instagram ha esaltato i suoi attuali tifosi del Genoa mandando una frecciata non da poco a quelli del Milan Alessio Cerci loda i tifosi del Genoa e lancia viceversa una stoccata non da poco a quelli del Milan l'alà del Grifone che nell'ultima partita di campionato ha fornito l'assist vincente per il gol decisivo di Rigoni non solo ha espresso la propria felicità per la prestazione e per la vittoria della sua squadra sui social ma inoltre ha lanciato una frecciatina ai suoi ex supporters torno su Instagram con questa foto di oggi una bella giornata con la vittoria del Genoa perché ci tengo a ringraziare i tifosi rosso-blu che sono dei tifosi veri di quelli che ti fanno tornare la voglia di non mollare mai e proprio quel sono tifosi veri ha fatto parecchio arrabbiare i milanisti che si erano scagliati contro Cerci sempre via social network dopo l'opaca prestazione del calciatore contro il Bologna quando ancora vestiva la casacca del diavolo ai tempi vennero scritti parecchi commenti a dir poco poco carini contro l'ex Torino questa volta però oltre alle ingiurie contro il calciatore sono arrivate anche le lodi da parte dei sostenitori del Genoa ma insomma seppur a metà si può dire che sia stato un piccolo passo in avanti per Cerci appuntamento alla prossima foto, tweet o commento del calciatore e quindi se i tifosi del Genoa si godono Alessio Cerci un po' più di preoccupazione c'è in casa blucerchiata infatti un piccolo caos ha sconvolto il club Doriano in quanto la FIGC ha invitato il presidente Massimo Ferrero a lasciare la carica da numero uno della società blucerchiata dopo il patteggiamento in tribunale vediamo terremoto in casa della Sampdoria secondo la FIGC infatti il presidente Ferrero in virtù del patteggiamento con il tribunale di Busto Arsizio ad una condanna di un anno e dieci mesi dopo il crack della compagnia aerea Livingstone dovrebbe decadere dalla sua carica secondo infatti la sezione consultiva della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio che si espressa in merito a tale vicenda lo scorso 22 febbraio ma il cui parere è stato pubblicato solo lunedì sera sul sito della Federazione stessa Ferrero a causa di quel patteggiamento che per la FIGC equivale ad una condanna dovrà lasciare come detto la presidenza dei blucerchiati è un attacco ad una persona pulita e semplice come me ma non c'è problema in quanto la sentenza non è definitiva e abbiamo quindi presentato il ricorso in Cassazione le parole di Ferrero che perciò fino a tale data potrà continuare a mantenere il proprio incarico ma successivamente se l'azione legale dovesse essere rigettata o confermata il numero uno dei blucerchiati dovrebbe tassativamente farsi da parte poiché l'articolo 22 della NOIF le norme organizzative interne della Federazione è chiaro se viene macchiata l'onorabilità di una persona non è conseguenziale la decadenza dalle cariche societarie della stessa Parliamo adesso di calciomercato questo perché una notizia proveniente dall'Inghilterra non farà certamente piacere ai tifosi bianconeri secondo infatti i tabloid d'oltre manica il Manchester City sul suggerimento di Pep Guardiola avrebbe di fatto bloccato il Kai Gundogan obiettivo dichiarato per l'appunto della vecchia signora brutte notizie per la Juventus secondo il Daily Mail infatti il Manchester City avrebbe soffiato il Kai Gundogan ai bianconeri il centrocampista del Borussia Dortmund a lungo cercato da Beppe Marotta e obiettivo di mercato dichiarato della vecchia signora secondo quanto riportato dalla stampa inglese si trasferirà infatti ai citizens che dalla prossima annata saranno guidati da Pep Guardiola il costo del cartellino sarà di circa 35 milioni di euro 10 in meno di quanto sarebbero stati disposti a spendere i vertici della squadra torinese determinante per la scelta del calciatore la questione economica Gundogan al City guadagnerà infatti 6 milioni di euro netti a stagione per le prossime quattro annate non si muoverà dalla sua squadra che ormai sappiamo è legato a filo doppio è Lionel Messi che appunto ha avuto una proposta dal Barcelona di prolungare il contratto fino addirittura al 2022 in casa Barcellona è scattata la missione per blindare a vita il proprio gioiello Lionel Messi si parla di un rinnovo di contratto fino al 2022 quando la Sargentina aveva 35 anni sul tavolo del presidente Josef Maria Bartomeu secondo quanto riporta il mondo deportivo ci sarebbero i chiesi di Neymar di cui si dice abbia già fermato un prolungamento fino al 2021 e soprattutto quella relativa alla pulce l'attuale accordo con il cappere Blaugranna schede il 30 giugno del 2018 l'idea dei dirigenti spagnoli è quella di trattenere Messi fino al 2022 una data particolare e non a caso perché proprio in quell'anno potrebbe sorgere il Camp Nou del futuro ed inaugurarlo con ancora il calciatore più forte della storia del club vorrebbe dire davvero tanto Bene Simone torniamo in Premier League parliamo di allenatori perché Rafa Benitez è un periodo un po' sfortunato dopo l'esonero dal Real Madrid però potrebbe rilanciarsi e ripartire Assolutamente sì l'ex allenatore del Real Madrid potrebbe tornare in Premier League secondo infatti quanto riportato dalla stampa inglese il Newcastle starebbe pensando ad ingaggiare l'ex allenatore di Inter e Napoli tutti i dettagli quindi nel prossimo servizio Il Newcastle continua a navigare in cattive acque in capperato e questo ha costretto i dirigenti inglesi a pensare ad un possibile sostituto di Steve McLaren si starebbe pensando ad un nome inclamoroso Rafa Benitez l'avventura dello spagnolo sulla panchina del Real Madrid è durata appena sette mesi e adesso è pronto per ricevere una nuova offerta ricordando anche l'esperienza precedente a Napoli che non fu proprio entusiasmante per il mister Iberico negli ultimi 24 mesi Rafa non ha certo convinto si tratterebbe di un ritorno in Premier dato che ha già allenato con ottimi risultati Liverpool e Chelsea pronta per lui nel caso accettasse una super campagna di rafforzamento nella prossima sessione estiva di mercato eccoci in studio cambiamo pagina chiudiamo col calcio passiamo ai motori alla Formula 1 perché i test svolti finora hanno dimostrato la supremazia di due scuderie sono la Mercedes campione del mondo e la Ferrari di Vettel e Raikkonen il mondiale inizia il 20 marzo in Australia vediamo come potrebbe andare il mondiale di Formula 1 che prenderà il via il 20 marzo in Australia si preannuncia una lotta 2 una lotta più equilibrata rispetto alla passata stagione che terminò con il trionfo di Lewis Hamilton seguito dal compagno di squadra Nico Rosberg i test svolti finora sono stati chiari a contendersi il titolo dovrebbero essere Mercedes e Ferrari con la Williams come possibile terzo incomodo la scuderia tedesca parte comunque favorita dopo aver dominato gli ultimi due mondiali e sarà interessante la sfida interna tra i due piloti con Rosberg stanco di finire dietro ad Hamilton pochi dubbi su chi sia la prima guida Maranello invece con Vettel che vuole ritrovare il titolo irridato per colmare il gap la Ferrari è partita da un progetto completamente nuovo non solo a livello telaistico meccanico e aerodinamico ma anche la power unit è stata interamente rivista i primi responsi si avranno già in Australia dove si capirà quanto il cavallino sarà in grado di impenserire la Mercedes parliamo adesso di Valentino Rossi ma non delle performance su pista del dottore ma in una chiave completamente diversa questo perché Valentino Rossi sfida Xavi l'ex stella del Barcellona in Qatar allora scopriamo i dettagli e del perché ci sarà questa sfida nell'ultimo contributo della nostra trasmissione sportiva Valentino Rossi si dà il calcio ma solo per un giorno dopo aver pensato di provare l'avventura in Formula 1 alla guida di una Ferrari ed essersi più volte messo in gioco nei rally con buoni risultati il campione di Tavuglia proverà a mettere in mostra anche le sue doti da calciatore di fronte però si troverà un avversario di altissimo livello l'ex stella del Barcellona Xavi Hernández il 17 marzo al don dell'Accademia Aspire in Qatar gli amici di Valentino Rossi e quelli di Xavi si affronteranno in una partita di calcio a 7 sono già pronte le maglie speciali visto che l'evento lancerà il mondiale di motociclismo che prenderà il via proprio in Qatar il 20 marzo i favori dei pronostici sono tutti per la squadra dello spagnolo ora in forza all'Alsad che schiererà anche i suoi fratelli Oscar ed Alex entrambi con un passato da calciatori anche Valentino Rossi potrebbe schierare il fratellino 18enne Luca Marini oltre agli altri amici del team VR46 eccoci in studio Simone siamo quasi in chiusura parliamo un attimo di Coppa Davis perché sappiamo abbiamo detto lunedì l'Italia ha superato la Svizzera una Svizzera priva di Wawrinka e Federer 5 a 0 la prossima sfida sarà contro l'Argentina di Leonardo Maier bisognerà decidere dove giocare perché l'Italia avrà comunque il fattore campo a sua disposizione potrebbe tornare ancora a Pesera quindi giocare di nuovo una cosa abbastanza rara giocare due volte sullo stesso campo da vedere anche la superficie perché sappiamo gli argentini sono molto forti sulla terra rossa come gli italiani si otterranno per un cemento che comunque vede un seppi a suo agio così come Fognini oppure giocarsi a pari armi pari con l'Argentina sulla terra si dovrà vedere se ci sarà del potro e se lui sarà in condizioni o meno prima di chiudere definitivamente parliamo un secondo di Maria Sharapova questo perché il mondo non solo del web e dei giornalisti è davvero diviso per quanto riguarda la tennista russa però c'è una notizia di cui dobbiamo darvi conto ossia che le colleghe della stessa nazionalità della Sharapova ossia le colleghe russe per ora non si sono assolutamente schierate dalla parte di Maria bensì sono state in silenzio e questo diciamo che può essere sintomatico di quanto successo alla bella e forte tennista la ultima notizia poi per quanto riguarda Asford News quindi un saluto da parte di Simone Togna e da Ivan Filannino a domani il programma è stato offerto da problemi di vitiligine ide è la soluzione per te ide la pelle siamo noi www.ide.it nuova S-Sport rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento attrezzature ed accessori delle migliori marche studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali nuova S-Sport lo store per veri sportivi viagano in 56 Milano a a a a